La curva dei contagi all'Aquila è in salita, anche se per i cercatori non si può parlare ancora di crescita esponenziale, per cui è questo il momento della massima attenzione. Anche gli ultimi dati parlano di contagi sopra i 20 giornalieri, un numero importante con diversi focolai che per il momento sono contenuti, ma che un po' preoccupano. Alzare ora insomma il livello di guardia per evitare situazioni ancora più preoccupanti, mentre prosegue lo screening per la popolazione di San Gregorio, dopo la positività di alcune religiose dell'Istituto Ferrari. Nella prima giornata su 90 tamponi, un solo positivo, lo screening terminerà sabato. Intanto pure all'ospedale San Salvatore ci sarà una stanza dedicata in dei hospital alla somministrazione di anticorpi monoclonali. Al momento ci sono 25 flaconi per Asle, ma il quantitativo è destinato a crescere. Sull'Aquila abbiamo qualche problema, mentre probabilmente per l'area metropolitana Pescara Chieti c'è stato un rallentamento, addirittura siamo al plateau, perché per il che riguarda l'Aquila c'è ancora una tendenza alla risalita della curva, anche se non ai livelli dell'autunno scorso, c'è ottobre e novembre. Però insomma questo desta un po' di preoccupazione e probabilmente è anche la testimonianza del fatto che ci troviamo di fronte a un virus più contagioso. Questi anticorpi monoclonali innanzitutto sono riservati alle categorie fragili che hanno un alto rischio, vanno fatti tempestivamente, quindi nella fase iniziale della malattia quando il virus replica e possono darci quindi il vantaggio che se interveniamo tempestivamente vediamo che questa malattia possa evolvere verso la fase più grave, cioè quella in cui si manifesta l'infiammazione grave, la cosiddetta tempesta citochinica. Quindi da questo punto di vista è un'arma in più che noi abbiamo, non è un'arma risolutiva, ma ci può aiutare molto soprattutto su alcune categorie di pazienti, lo vorrei ricordare, anche ematologici, dializzati, pazienti con diabete scompensato, obesi e così via. Diversi comuni del circondario intanto faranno nuovi screening di massa, torno in parte toccherà domenica, mentre a Palazzo Silone la dirigente Paola Di Salvatore ha chiuso in via precauzionale il primo piano dopo la positività di un addetto all'assistenza tecnica. Grazie.